va giù e poi anche lui lo fa trovo una cosa qui si mette in un'altra ghiaccia poi magari è stato di sceglione l'angolo quindi, allora lui si piega si piega se no allora da questa posizione lui si piega bene guarda che si posa me non ci si può fare mi scrive una sceglione qui qua è impossibile un responsatore a lui come lo fa adesso giusto, lui e tu ma se non è qui il contatto deve essere e allora a questa posizione si porta il calcio col piede girato tra l'altro non così ma qua poi vado sotto la mano 2,5 mm che doveva quelle le 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 duc lui il massimo a giann 갈à sb 1 2 3 3 i